Noi del Ristorante dello Scudiero abbiamo avuto la concessione dal Marchese Baldassini di avere il giardino per le serate che vanno dal martedì sera al venerdì sera. Quindi creeremo due menù dedicati a questa nuova iniziativa, a questo nuovo adattamento che il governo ci ha imposto e utilizzeremo questi spazi esterni per servire due menù serviti per quattro giorni. Quindi la serata del martedì e del mercoledì avrà un menù, la serata del giovedì e del venerdì avrà un altro menù. Quindi sarà sia una cena all'aperto e sia comunque un momento culturale per visitare i giardini del Palazzo Baldassini che da sempre sono sempre stati un po' tenuti chiusi o all'oscuro un po' dalla città. Devo dire che l'anno scorso il successo è stato tanto, la gente era felicissima di avere questa possibilità, anzi le richieste erano talmente alte che non riuscivamo un po' a esaudirle. Quindi ripartiamo, ripartiamo martedì 4 con il nostro primo menù. La prenotazione è obbligatoria. I coperti saranno posizionati nel loggiato che possiamo vedere in fondo al giardino e all'ingresso appunto di piazzale Matteotti e le persone che i posti saranno limitati all'incirca 60-80 persone. Per quanto riguarda gli asporti, a mio avviso l'asporto barra delivery premia una tipologia di cucina, una tipologia di servizio che sono quelle del mordio fuggi o comunque delle cose facilmente trasportabili. Io credo che oggi la gente ha tanta voglia di uscire, ha tanta voglia di stare assieme, ha tanta voglia di stare a tavola, ha tanta voglia di godersi anche quello che sono le ambientazioni.